La decisione assunta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso, in merito all'approvazione del bilancio di previsione 2016, non è affatto piaciuta al presidente del movimento politico, Maria Ferrera. Il voto favorevole, dice Ferrera, è da considerarsi una valutazione di conseguenza o una decisione estrettamente personale, non frutto di una preventiva analisi con il direttivo. I due consiglieri non hanno comunicato al direttivo di Reset le intenzioni che avevano in merito al bilancio. Noi non ci riuniamo da un po', non per mia mancanza, ma perché evidentemente i consiglieri hanno preso una direzione che non coincide con quella del direttivo. Avrei preferito in queste situazioni, visto che si deliberava una cosa importante per la città, che loro chiamassero, che ci riunissimo e che condividessimo assieme la decisione da prendere. Non dico che il bilancio non doveva essere votato favorevolmente e neanche sfavorevolmente, ma quantomeno quando si condividono delle scelte si discute e si va nella direzione univoca. Per Maria Ferrera si tratta di un'occasione mancata perché poteva essere motivo di dibattito e di confronto al fine di inserire punti programmatici presenti in Reset 4.0. Una discussione in tal senso non c'è stata. I consiglieri hanno scelto per loro libera scelta. Maria Ferrera esorta i consiglieri di Dio e Caruso a condividere le decisioni future con il gruppo Reset 4.0 e a tenere sempre presente che lo stesso è stato e continua ad essere opposizione alla giunta comunale. Reset nasce come opposizione a questa amministrazione. I consiglieri sono tenuti a rendere conto al Reset 4.0, quindi ci possono essere i margini per rientrare un po' nella prospettiva. Con Luigi c'è stato uno scambio di messaggi e siamo arrivati alla conclusione che chiariremo quanto prima.